Ben trovate cari amici, siamo in cuore delle parole a un nuovo appuntamento con gli autori del territorio tra Piemonte e Liguria. Oggi parliamo d'arte, anzi di un libro che è in uscita, che racconta, traccia, ritratte di 21 artisti del territorio, Langhi in particolare, ma non solo, diciamo che le Langhi sono il punto di riferimento di questi autori. Questo libro è inerente anche a una mostra che è in apertura e in corso ad Alba, in centro Alba, proprio vicino al municipio, alla sede della Banca d'Alba, e viene inaugurato il primo di aprile e sarà aperta fino al 10 aprile del 2023, naturalmente. Parliamo dell'anno in corso. Abbiamo con noi uno degli artisti, Torre Milano. Ciao, Torre. Ciao. Torre, che è uno dei curatori del libro, naturalmente il libro è di Giovanna Zanirato, che non può essere presente con noi per motivi lavorativi, ma di lei parleremo molto oggi, e Torre è uno dei curatori della mostra, uno dei ideatori di questo evento, e uno degli artisti presenti nella mostra. Torre è molto conosciuto nelle Langhi non solo, e le sue opere adesso sono esposte un po' in giro nelle Langhi, non soltanto, poi ne parleremo anche diffusamente in un altro momento, perché oggi vogliamo parlare proprio di questa mostra, che ha il titolo di Artisti del territorio, Segni e frammenti. Il libro a cui si riferisce invece la mostra è Tra le colline e l'incanto. Allora, addentriamoci un po' in questa mostra che si sta per aprire, che sarà protagonista ad Alba per dieci giorni. Abbiamo una mostra nuova, con un'idea particolare, l'idea è che il territorio sia un po' il fil rouge di tutti gli artisti, perché gli artisti non sono delle Langhe, tutti quanti, adesso faremo l'elenco di tutti quanti gli artisti, cerchiamo di non dimenticare nessuno, sono 21, fin d'ora ci scusiamo, casomai dimenticassimo un nome, diciamo però appunto il fil rouge e le Langhe. Allora, intanto prima di partire faccio l'elenco degli artisti, perché poi ci dimentichiamo e l'artista in quanto tale ci tiene, quindi così vi racconto chi sono i protagonisti della mostra. Tanchi Michelotti, Gabriella Piccatto, Andreoli, Pasquero, Liberonada, Polastro, Carlo Giuliano, Beppe Gallo, Gallina, Graziani, Remo Salcio, Antoniana Tavella, Morone, Luigi Carbone, Gaschino, Munci Guerra, Antonio Buccolo, Borgogno, Torre Milano che è qui con noi, Vera Bursic e Del Pero. Sono 21, tutti pittori, tranne Remo Salcio che è uno scultore, noto perché appunto scolpisce le pietre di Langhe, va in giro nei fiumi a raccogliere pietre, a fare facce di lune, di soli e di masche, un personaggio che fa anche il musicista, comunque sono amico di Remo quindi. E gli altri sono tutti pittori buona parte di una certa età, bisogna dire che hanno un percorso artistico importante, che hanno segnato la scena artistica piemontese, di Langhe in particolare, negli ultimi 50 anni. Quindi l'idea, Torre, qual è stata di questa mostra? L'idea, diciamo che una serie di idee poi sono confluiti in un'unica idea che era quella di raggruppare degli artisti che avessero alle spalle un percorso significativo, ma nello stesso tempo anche collegato al discorso di Langhe. Quindi come hai ben sottolineato, non sono artisti tutti di Langhe, ma artisti che comunque sono appassionati di Langhe. Come ad esempio il sottoscritto, io sono di Pollenzo, sono ai limiti della Langhe, però vivo più a Mango che non a Pollenzo. perché mi piace moltissimo quell'ambiente. Lo scopo, ovviamente interpretando un po', spero di non sbagliare, anche l'idea dell'autrice. Sì, di Giovanna Zanirato. La grande anima della mostra e del libro. Perfetto, è anche quello di fare una specie di documento storico, di questi personaggi che comunque hanno caratterizzato tutta l'arte di questi ultimi decenni, decenni proprio perché siamo tutti di una certa età. Tore è un giovane virgulto. Diciamo che la buona parte, la media è gli 80 anni, quindi abbiamo scelto, si è scelto anche una linea appunto per storicizzare, mettere un punto su questi percorsi artistici. Una domanda così, artistica, diciamo. Tu li conosci bene questi pittori? Quasi tutti. Quasi tutti li conosci bene. Ecco, sono più su un versante astratto o più, ad esempio, diciamo, una pittura realista? No, io, ad esempio, recuperando un po' i quadri che serviranno poi per la mostra, ho notato comunque veramente una vivacità creativa, di tutti gli artisti, chi attraverso comunque l'interpretazione del paesaggio, come ad esempio Beppe Gallo, con le sue pennellate, che rappresenta un paesaggio quasi informale, non so, Rodolfo Graziani, ad esempio, con un astrattismo che riporta all'arte africana, via dicendo. E, diciamo, ognuno di questi hanno non solo l'aspetto figurativo da rappresentare, Pasquero, diciamo, hanno questa immagine, che è quella della rappresentazione reale del paesaggio, con le luci, i colori, maestria tecnica e tutto quello. Altri, invece, sono passati nel corso della loro carriera a un informale o, ad esempio, anche a un astrattismo, o, ad esempio, come nel sottoscritto, a una non ben definita interpretazione dei pensieri. Certo, certo. Se guardate il passaggio, appunto, da un figurativo classico a un astratto e un informale, è un percorso, faccio una domanda cattiva, perché l'arte è spesso legata al mercato. C'è poco da fare. Cioè, uno dipinge a volte perché magari si chiede quello, ma da sempre, no? L'artista da sempre è legato al committente, no? Chiunque, fino ad 800, gli artisti dipingevano perché ti chiedevano quello. Cioè, una chiesa ti chiedeva una palla d'altare e tu facevi la palla d'altare, non facevi il paesaggio, no? Allora mi chiedo, ripeto, domanda da qualche tue del diavolo, a volte il passaggio di qua o di là è dovuto a un fatto di mercato o proprio a un fatto personale di ricerca artistica? No, allora... In generale, non chiedo a te, non chiedo di dire questo o quello, ma in generale. In generale, io credo che il passaggio da quello che può essere la tecnica accademica, figurativo, eccetera, a un'arte più astratta, concettuale, informale, quello che si vuole, sia forse conseguenza di una libertà mentale che proprio l'essere, la passione stessa dell'arte ti porta ad avere. Di conseguenza, più ci si libera la mente, più ci si distanzia da quelli che sono i canoni storici dell'arte. Quindi, ad esempio, e sono costretto magari a fare qualche citazione su me stesso, per me l'arte si sintetizza in una cosa che non so come descrivere, ma un gesto, che è questo qua, un gesto liberatore, un gesto che si apre, che va verso l'esterno. Credo sia una questione proprio di mentalità. Ci sono degli artisti che comunque hanno un'abilità tecnica indescrivibile, altri che invece hanno una forma di creatività e magari passano il tempo più a pensare che non a trasformare questi pensieri in opera d'arte. Poi, è vero, il discorso del mercato, purtroppo, ma non tanto in questi artistici, devo dire, di una certa età, perché comunque questi sono supportati da una passione. Forse è proprio l'arte, quella definita contemporanea di questi tempi, quella che stiamo osservando dei giovani, eccetera, è più finalizzata alla ricerca di una forma di successo. Poi si calmano tutti, perché il successo solo qualcuno lo ottiene. Lo si ottiene proprio con delle regole di mercato particolari. Ma forse cercando non lo ottiene. Se uno è libero, prima o poi magari, se uno è sincero, nella propria opera d'arte, forse poi il successo artistico e commerciale di conseguenza di questo comincia ad arrivare. Posso dire, secondo me la sincerità preclude ogni carriera, perché comunque è il compromesso che ti porta a una carriera. Questo è un discorso che non vale solamente nell'arte, vale forse in tutto. Senti, una mostra d'arte collettiva non è mai semplice. Secondo me, perché mettere insieme 20 persone che magari tra di loro c'è invidia, c'è qualcuno nella vita, perché sono tutti, ripeto, hanno certa età, tutti si sono incrociati nelle loro vite, no? È stato semplice, oppure vorremmo avere qui Giovanna e che lei è ancora più, però Torre comunque ha seguito anche lui la situazione. Io direi che dire collettiva è riduttivo, direi che sono 20 artisti che mettono una loro opera, ad ogni artista è stata richiesta un'opera rappresentativa del percorso vissuto. e di conseguenza io ho visto proprio i personaggi che sono rappresentati e presentati in questa mostra, direi che sono 20 artisti che espongono uno di fianco all'altro, però ognuno è talmente perneato attorno alla sua storia che si evita di guardare l'insieme. Sicuramente il discorso estetico della mostra è curato rispetto a delle cromie che non vanno a disturbarsi l'uno con l'altro, diciamo spazio ce n'è per ogni artista, poi diciamo che questa sede espositiva è talmente bella che comunque fa da cornice in un modo estremamente importante quelli che sono i quadri. Ricordiamo che lì hanno fatto un'esposizione non da molto di Nespolo, una bellissima mostra su Primo Levi anche pochi mesi fa, quindi è un luogo prestigioso, ma mai. Siamo in tempi di, come dire, quota e rosa abbondanti, no? Su 21 pittori ci sono solo tre donne, giusto? Vediamo Gabriela Piccato, Vesna Bursic e Antonia Latavella. La pittura storicamente è stata un po', ma forse la cultura in generale è sempre stato un po', è sempre stromesso un po' il genere femminile. Nella storia della pittura le donne non sono tante, nella storia dell'arte, non sono tantissime. Oggi è molto più di un tempo, è chiaro, oggi siamo pari pari, però qui siamo ancora in una terra che forse in coloro della donna è ancora un po' lontana dell'arte, no? Che dici? Ma io non sono uno storico e non so interpretare, io so che quello che è stato fatto è stato, almeno per questa occasione, è stato quello di guardare quello che è il panorama esistente e anche le conoscenze, perché non dimentichiamoci che questi sono 21 artisti, però ce ne saranno 200, ma ci vorranno ancora altri 5 o 6 volumi per rappresentare tutti gli artisti. È chiaro che ogni libro, ogni mostra vedi quello che c'è e vedi quello che non c'è, ogni scelta comporta una non scelta, quindi, però appunto, facendo ottavo che... No, no, sì, questa è una casualità, poi non entrerei nei giudizi, cioè, ogni persona, ogni artista, io poi ho un mio concetto particolare di artista, ha una sua visione, indipendentemente da essere uomo, donna, e via dicendo. Questo è quello che sta succedendo in questo momento e è quello che comunque anche chi ha supportato Giovanna nell'elaborazione di questo libro... Che è una donna, l'autore e la curatrice è una donna, quindi... L'autore è una donna, la storica... La storica cinzia tesi... È una donna... È una donna, quindi... Manca forse, appunto, la quantità dell'artista femmina che magari col tempo verrà... Forse, secondo me, se si abbassando l'età da considerare, si trovano molte più donne e molto anche artiste... Sì, sì. Io vado a vedere artissime a Torino ogni anno e direi che le donne sono paritari, anche la maggioranza, quindi direi che... Forse è una questione proprio di età che pian piano... Se io penso al disartistico che conoscevo, buona parte erano donne, quelle che frequentavano disartistico, quindi... Anche quando ho frequentato... Anche tu, è in netta minoranza. In netta minoranza, no? È un po' come... Forse è come la cucina, no? Alla fine i grandi chef sono uguali tutti i maschi. Sì, sì. Non sai perché, però chi cucina in casa sono le donne. Sì, sì. Però poi, alla fine, i grandi chef e donne sono molto poche, no? Strano questa cosa. Sì, credo che sia un po'... Ecco, sempre il discorso della casualità. Ci sono quelli che sono veramente appassionati. Io ho trascurato molto l'aspetto della mia... Diciamo, del mio lavoro, dell'economia anche, per potermi dedicare all'arte. L'arte è una passione... E quindi, probabilmente, questo porta magari a fare delle scelte anche nella vita, magari uno dentro ha molte cose da esprimere, però i fatti poi sono diversi. Certo, la vita poi ti porta a strumenti diversi. Molti artisti, io conosco, non faccio nomi per non citarne altri, comunque mettono al primo piano della loro vita, in prima posizione, l'arte. L'arte. E la donna spesso... Indipendentemente da quello che poi dopo ha raggiunto. Sì, certo, capito. Non mi ha detto che poi, se tu fai solo quello, diventi Michelangelo, però la tua passione è l'arte. Mentre la donna magari, prima di tutto, forse a volte mette alla famiglia, ma questo è un altro discorso. Torniamo alla mostra, torniamo alla mostra. Allora la mostra è aperta, vengo dal primo al 10 aprile del 2023, Banca d'Alba, il centro di Alba, vicino al centro, proprio nel centro, nel cuore di Alba, vicino... Sì, via Cavour. Via Cavour, vicino al municipio, piazza, proprio Piazza Duomo. Gli orari? Ah, gli orari li leggo, perché orari è venerdì, dalle 15 alle 18, poi il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18. Molto bene. Gli altri giorni saremo aperti con orari elastici. Con orari elastici, insomma, è una mostra... Senti, sarà inaugurata il sabato, il sabato primo aprile, alle ore 16.45. Alle 16.45 ci sarà la presentazione del libro nella sala convegni della Fondazione Banca d'Alba, nel piano interrato. A seguito, bellissima, anche coreografica, l'apertura della mostra, l'inaugurazione della mostra, dove i bambini allievi, alcuni bambini allievi, alunni, non allievi, della Giovanna Zanirato, taglieranno il nastro per l'inaugurazione. Ho capito, sì, perché... anche della musica. Giovanna Zanirato è una maestra dell'infanzia, giusto? L'infanzia. La musica sarà Simona Colonna, Simona Colonna, grande musicista del Roero, che canta con un violoncello... Quixotte. Quixotte, si chiama, il violoncello. E canta quasi sempre in Roerino, piemontese della sua zona. Poi la mostra sarà appunto aperta sempre, poi il libro sarà disponibile, insomma, nelle librerie, sarà così... rimarrà, perché il catalogo di una mostra, un libro rimangono, le mostre passano, poi invece il libro rimane anche documentare. Poi la mostra si spera anche di ripetere più avanti, in altre zone, delle date, dei posti in cui verrà ripetuta. Ecco, la presentazione sabato ci saranno anche gli artisti, in buona parte, insomma. Sabato ci saranno gli artisti, ci saranno i patrocinatori del libro. Certo. Quindi ci sarà un responsabile dell'UNESCO, ci sarà l'editore, ci sarà lo storico e il suo collaboratore, c'è il senzio di Dario Lorenzate. Un bellissimo pomeriggio, un pomeriggio d'arte. Sarebbero tantissime domande da fare, poi il tempo, però ne voglio fare ancora qualcuna. Domanda molto tecnica, guarda, è una domanda brutta. Seria? No, domanda molto tecnica, perché l'arte comunque alla fine è legata al mercato, perché alla fine si lavora anche per quello. Le opere sono in vendita, se uno volesse comprarle o no? A volte mi chiedo, nelle mostre, quasi tutte le mostre, c'è un prezzo del quadro, ma non tutti però. Ma questa, ecco, le diciamo che è una caratteristica di questa mostra, che forse non abbiamo neanche pensato a questo aspetto, che poi, se qualcuno vuole contattare l'artista, noi abbiamo i dati, si contatterà l'artista, però non è finalizzata a quello. Credo che secondo me l'aspetto, forse è importante per chi è appassionato di queste cose, essere sabato pomeriggio presenti, perché comunque sarà un momento anche di forte emotività. Certo, perché alcuni artisti si rincontreranno dopo anni, artisti che hanno vissuto, non so, il periodo del dopoguerra, andranno a raccontare le loro esperienze, ci sarà, speriamo, un breve intervento anche di Antonio Buccolo, che ci presenterà il suo rapporto con Pino ad Gallizio, e i vari Iorn, Costanz, Simondo, il famoso gruppo di... Nell'alba dei tempi d'oro. Anni 50, il gruppo Cobre, poi anche il famoso situazionismo, che è bene... Sì, ecco, torno al situazionismo, diciamo, verso il periodo del periodo, della Costituzione, del periodo situazionista. Sì. Senti, le Langhe sono al centro di questa mostra. Questi artisti, quando sono partiti, le Langhe erano la terra di Malora, no? Sì. Sì, sì. 60 anni fa, anni 60, le Langhe, non era quelle di oggi, uno non si immagina, un tempo le Langhe erano la terra della Malora di Fenoglio, no? Oggi si trova invece ad avere un'altra partecipazione della Langhe. La Langhe è una terra amata nel mondo, è una terra conosciuta, è una terra desiderata. Poi avevi un ciabotto in Langhe, tu lo tiravano indietro, adesso diverso, no? Sì. secondo te ha influito un po' questo sull'arte di quelli che frequentano le Langhe? Domanda finale, così. Io credo che l'artista è attratto in un modo spassionato dalla natura. Quindi immergersi nella natura è una cosa che quasi tutti desiderano, specialmente quelli che hanno, come si dice, gli occhi per vedere. Ecco, io leggevo una bella frase stamattina di Borsi, vabbè, non voglio fare citazioni, però gli chiedevo cos'è che faresti tu se ritorneresti indietro nella vita? Lui direi, ma io mi siederei di più a guardare un tramonto. Ecco, secondo me la Langhe è proprio questo, ti infonde, ti infonde questa calma interiore e quella pace che comunque gli artisti desiderano e cercano di vivere e di trasmettere anche attraverso le loro opere. Credo che non sia, è la natura, tutto sommato. Poi lo sviluppo di questa terra è stato comunque supportato da personaggi importantissimi. C'è, certo. Sì nell'ambito culturale che nell'ambito artistico che nell'ambito enogastronomico e nell'ambito economico, pensiamo alla Ferrera. quella che ha determinato in un certo senso Io spero tanto comunque che questa evoluzione, questa ricchezza che è arrivata in Langhe, ma sicuramente sarà così, non vada a modificare quell'aspetto sicuramente fisico, perché essendo un patrimonio unesco tutto sarà... Certo, adesso abbiamo un po' Però anche avere un po' di discrezione anche nella proposizione di elementi artistici. Io personalmente, forse sbagliando, ritengo che l'arte deve essere una cosa estemporanea, va posizionata su una collina, eccetera, per farla vedere in quel contesto e poi deve essere tolta. Non sono tanto... Adesso il tempo è finito, ma la Langhe è disseminata da panchine in questo momento che rimangono lì, le panchine, quindi... Comunque, le panchine si servono per guardare. Esatto. Caro Tore, il tempo è terminato, facciamo ancora un appello, andiamo ad Alba a vedere la mostra Artisti del Territorio, segni e frammenti in quel della Banca d'Alba, in centro d'Alba, vicino al municipio, tutti i giorni dal 1 al 10 aprile, quasi sempre aperta, quindi o vedete sul sito, o vedete sui giornali gli orari. Grazie a Tore per la tua presenza qua. Grazie a Giovanna Zaninato che non c'è, ma è con lei che un po' ha creato tutto. E allora arrivederci a presto con la mostra, con l'arte e con il nostro appuntamento settimanale con gli autori del territorio. Grazie a Tore. Grazie a Tore.